vorrei un bel applauso mentre i ragazzi si vanno a cambiare perché noi non interrompiamo lo spettacolo lo spettacolo continua, io sto aspettando Raffaella che viene a raccogliere le schede e intanto comincio a preparare quel gruppo di giovani che ho lanciato io su questa piazza a cominciare a prepararsi tutto in diretta che bello, vero il risponso come mi riguardano mi dica assessore